Hanno riaperto anche nei comuni della Romagna-Fentina le aree gioco per bambini nei parchi. Sono stati tanti i genitori che nella giornata di lunedì hanno portato i figli nei principali parchi delle città nonostante il leggero maltempo del lunedì pomeriggio. Malgrado l'alto afflusso però non si sono registrati problemi di ordine pubblico. A partire dalla giornata di martedì le amministrazioni comunali dovrebbero provvedere all'installazione di alcuni cartelli indicanti le norme da far rispettare ai bambini da parte dei genitori, mantenere le distanze, evitare assembramenti, mascherine obbligatorie per i bambini di età superiore ai 6 anni, non più di due bambini per volta sullo stesso gioco. È poi consigliato pulire le mani ai bambini una volta scesi dai giochi. I comuni procederanno a loro volta periodicamente alla sanificazione delle aree gioco. Ad aiutare il comune in queste operazioni potrebbero intervenire in caso di bisogno alcuni volontari come i volontari della piccola Osi per quanto riguarda Fence, il Parco Bucci e il Parco della Rocca grazie a mezzi messi sempre però a disposizione dalle amministrazioni comunali. A causa dell'alto numero di aree gioco presenti sul territorio non sarà possibile monitorare costantemente il rispetto delle regole. Dove possibile e dove presenti i volontari effettueranno verifiche, ricorderanno il regolamento, lasciando poi però alla Polizia Locale il compito di intervenire ed eventualmente sanzionare i responsabili di comportamenti non corretti. Di conseguenza è indispensabile la collaborazione delle famiglie e il buonsenso di tutte le persone che accompagneranno i bambini nelle aree gioco. Sarà responsabilità di ognuno osservare le regole anche per rispetto della sicurezza e della tranquillità degli altri. Rimarranno al momento chiusi invece i bagni se non in casi di estremo bisogno come per esempio in presenza di persone o bambini con disabilità.